si è svolta in diversi modi attivare il comando copia del riquadro di modifica del pannello principale l'area di lavoro selezionare un oggetto per selezionarlo terminare la selezione degli oggetti premere il tasto invio nella fase successiva scegliere il punto base e specificare il punto di inserimento per la copia analogamente, utilizzare la combinazione CTRL chiave più C e CTRL più V selezionare un oggetto e CTRL più C nella fase successiva premere CTRL più V e specificare il punto di inserimento usare la clipboard per selezionare un pulsante del mouse oggetto e il diritto di provocare il menu a discesa attivare il comando copia il passo successivo nella stessa chiamata per attivare il menu a discesa fare clic su incolla da punti e specificare il punto di inserimento attivare il più facile attivare il piatto attivare il numero corso attivare il punto di inserimento attivare il tuo pieno